Ciao! Nuovo video, nuova versione sempre uguale della Cricri in bagno con senza trucco volevo farvi vedere i miei rossetti in mac allora io spero che la luce ci aiuti ragazze perché il lano diluvia, sono uscita con le pinne stamattina, l'ho già detto in qualche video fa e niente, se adesso sto guardando va, niente, spegniamo il cellulare che è meglio, via allora, quanti ne ho io? 15 rossetti allora, alcuni li ho già usati, altri no, adesso ve li faccio vedere vediamo, vediamo, da dove iniziamo? iniziamo da lui, è un matte li prendo a caso, il retro matte lipstick della MAC, questo è Flat Out Fables qualcuno mi sa dire cosa vuol dire il back to mac colore, fucsia, fucsia rosa, allora su, Sweet Beauty 1990 Marta, chi non la conosce se passa di qua, un bacio, si sa mai nella vita ha una resa molto meglio rispetto alle mie labbra adesso, allora, dicono di fare gli swatch all'interno qua ma, se vedete, oh, io le mie labbra no, però potrei, perché magari voi non avete ste labbra super mega pigmentate boh, e vabbè, è questo qua ok, è molto difficile da stendere questo, dovete avere le labbra molto idratante, perché sennò non si stende vedete questo bellissimo colore dovete, su di me è più che un fucsia, è un rosa scuro, però vabbè, ci lo prendiamo così e quindi io cosa faccio? lo stendo, lo picchietto lo faccio così dovete avere le labbra molto bene idratate, non va nelle pieghe, dura ovviamente tante, vabbè, 4 ore se le fa l'unica cosa, è che quando lo dovete eventualmente ritoccare, non ripassate il rossetto stendendolo lo picchiettate, perché sennò viene una merda ecco, proprio finemente detto poi l'altro che mi sono presa è Cream Cap perché questo qua è un Cream Sheen Lip è un tonità abbastanza nude perché ultimamente sono un po' in scimmia con i nude, non so perché ed è questo bellissimo colore vedete? ok, e ve lo metto qua è un nude tendente molto al rosa non so se se notate, è un nude che tende molto al rosa chiaro è bellissimo allora, questo qua non dura tantissimo questo qua sulle mie lava mi fa durare, non di più se inizia a parlare troppo, a chiacchierare troppo se lo mangia quindi due orette, però ha un bellissimo colore quando sono truccata di con tonalità fredda e rosa quindi con del blu oppure del rosa e del blu un rosa e grigio questo qua passa molto bene vedete? poi, che cosa c'ho? il craving il craving che è un amplified cream lipstick poi nel frattempo vibra tutto perché faccio i video e intanto ne ho caricato un altro e voi commentate che è questo qua ok bello, questo qua l'ho usato due volte, non di più ok ed è questo bellissimo colore io spero che renda in telecamera in craving che è un magari da qua ecco, forse da qua si vede meglio è un io lo vedo un rosa scuro un rosa antico un rosa scuro non so se riuscite a vederlo ok questo un 4 ore se le fa tutte poi uno dei miei preferiti è Girl About Town l'ho visto da Eleonora Manni ciao Ele e l'ho voluto prendere penso che sia anche uno dei suoi preferiti non lo so è un amplifying cream lipstick scusate faccio un po' fatiche ok ed è questo bellissimo rosa fucsia allora, lo mettiamo in sé vicino all'altro rosa ok come come rosa fucsia ci siamo questo è un po' più rosa ed è questo qua questo è stupendo io quando ho un trucco di blu e voglio caricare labbra metto questo qua questo è bellissimo bello, 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 bello questo qua dura veramente tanto questo qua un 6 ore se le fa tutte poi il Chatterbox è questo anche un Amplify che è questo rosa tendente al pesca ok e lo metto qua ma questo è bellissimo vedete che bello che è questo rosa tendente un po' al pesca ok il Chatterbox sulle mie labbra mi fa 3 ore non di più poi è tutto soggettivo dipende molto da se ci mettete io non me ecco una cosa che è premessa a me non piace mettere la matita labbra sotto i rossetti a non sono capace b faccio veramente fatica ho già le labbra molto molto disegnate a me metto la matita labbra tipo le neve pastello da sole con o un lucida labbra o un gloss quindi a meno che non sia un rossettino che migra tipo quelli della essence con i nuovi matta allora metto contorno labbra e poi metto però di questi qua io non metto la matita labbra quindi le durate che io vi dico sono senza matite labbra quindi se ci mettete una matita labbra secondo me dura molto di più ok era una premessa doverosa poi uno dei miei preferiti è un amplifying è il blankety perché quando io carico molto 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 gli occhi che si vede è uno dei miei preferiti che sta diminuendo quando carico molto gli occhi neutralizzo completamente le labbra è una roba che mi piace posso anche sembrare un cadavere e non me ne frega niente a me piace e quindi vi faccio vedere com'è che è questo qui vedete blankety e trovo che mi stia veramente bene questo non dura tantissimo ve l'ho già detto va via subito ma neanche due ore si fa però vabbè passate ripassate lo passate lo ripassate comunque questo qua bello vi ho detto quando io carico neutralizzo le labbra uso questo tutti questi rossetti sulle mie labbra e sono labbra secche sempre non non vanno nelle pieghe questo e non non si spatasciano in giro questo è già un'ottimo un'ottima cosa poi ho voluto prendere è un frost lipstick questo è questo non dura niente ma proprio questo 50 minuti è già tanto ma il colore è bellissimo vedete io l'ho preso solo per il colore è qualcosa di spettacolare non dura niente ragazzi non dura veramente non dura veramente niente ma il colore è bellissimo io spero che si veda però in effetti se devo spendere 18 euro per un colore che si fa 50 minuti sulle mie labbra non ne vale la pena però ammetto che fa niente me lo metto in borsa me lo tocco me lo ritucco me lo ritucco ma ammetto che questo colore qua con dei rifersi bronzati che è meraviglioso veramente bellissimo poi 50 minuti questo sulle mie labbra senza matita poi c'ho il rebel è un satè il rebel è un satè mi dicono che il 914 che mi ha regalato della Kiko Silvia sia uguale a questo poi vi saprò dire ed è questo bellissimo viola viola brugna allora sulle mie labbra questo non 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 è un satè in base alla pigmentazione delle labbra vedete che bello che è io spero che i colori rendano questo sulle mie labbra tende ad essere un rosato la batteria mi sta abbandonando fra un po' cambio anche la la sim odio dove tagliare sempre i cosi ma non ci posso fare niente bello 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 questo qua è bello è veramente stupenderli poi cosa c'ho qua il diva bello è un matte lipstick ma rispetto al flat of fabulous si stende decisamente molto molto meglio non faccio fatica a stenderlo ed è questo rosso molto bello e dove lo metto ci ho messo anche ci ho fatto un trucco ci ho messo la foto su instagram lo metto qua è un matte ma è un matte questo qua è proprio un matte e questo è un matte che secondo me col passare delle ore diventa matte non è matte istantaneamente come questo non so se è riuscito a vedere questo è proprio un matte secco questo è proprio secco questo è un matte è vero che questo è un retro matte quindi magari è ancora un po' più secco questo è un matte che comunque rimane sempre leggermente non so se si vede leggermente lucido quindi non è totalmente matte e questo è molto confortevole sulle labbra io non ho problemi da stenderlo questo mi dura tutto il giorno tutto il giorno vuol dire 8 ore ci mangio ci parlo ci chiaccio ci metto il cappuccino non l'ho neanche ritoccato nel momento in cui il colore va via lucido va via rimane una specie di tinta per labbra e va via solo con un bifasico quindi questo qua è bellissimo non so adesso vedete che si è secato un po' ma rimane sempre un po' lucidino non so se riesco a farmi capire questo ripeto questo lo vedete completamente opaco secco proprio mentre questo qua no vabbè non so fatemi sapere poi ho preso il cyber questo qua è un saten anche questo questo è bellissimo cambio la sim e vi faccio vedere cosa non è il cyber che è molto arrivo eh eccomi eravamo rimasti al cyber che è uno dei miei preferiti è molto scuro come colore è il signor rossetto per l'eccellenza secondo me ok pronte? io lo adoro è un viola melanzana bellissimo allora io quando sono in modalità dark lo adoro è questo qua non so se riuscito a vederlo ecco quasi si vede bene steso sulle labbra non è così scuro come sul al dorso della mano eh sinceramente è bello 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 lo adoro questo dura tante 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 ore questo qua si fa tranquillamente 6-7 ore senza nessun problema ci mangiate ci parlate soprattutto ci parlate perché io parlo tanto e quindi è questo qua bello bello cioè bisogna usare ogni tanto nella vita se non osi che cosa vivi a fare poi cosa c'ho il pink nouveau ok sì pink nouveau è un saten anche questo non è male adesso ve lo faccio vedere poi vabbè c'ho una lista di che è questo rosa bello ho una lista di grossetti mac da prendermi tra cui il candy yum yum perché ho detto se ho usato quel cyber figurati se non oso quel candy yum yum ed è questo qua il pink nouveau è questo qua questo qua si fa massimo due ore sulle mie labbra non è male questo lo abbino questo qua lo abbino con il blu con i trucchi di blu ok perché io ho tutte le mie le mie combinazioni di colore vabbè ognuno ha le sue c'è chi dice che non sta bene c'è chi dice che sta bene a me me frega niente io faccio quello che voglio comunque questo qua bello poi il pink popcorn è questo è un lustre lipstick questo è molto molto tenue questo qua l'ho provato l'altro giorno con la matita invidia di neve cosmetics non è male intanto mi sono spattasciata tutta quando fai sti lavoretti io ti odio cioè giustamente giustamente se metti nel panno della mano e poi tappisci vabbè sopra il pantalone della tuta è questo qua bello 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 ne ho visto uno nuovo da lì nutella che anche lei ne aveva uno sul sul viola che ho preso nota questo qua si è sponcato mi dà fastidio ecco perché io non voglio mettere le matite labbra sotto e sopra vabbè ve lo metto qua questo è molto 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 tenue lo vedete dura veramente da Natale a Santo Stefano però con la matita invidia secondo me questo si sposa abbastanza bene non so se riuscite a vederlo metti a fuoco pronta ecco è questo qua vedete è molto lucido molto sheer che bello una bella tavolozza di colori bellissimi nel frattempo è cascato il tappo perché io se non faccio i miei video arrivo subito i video incasinati io non sono contenta ok poi abbiamo agli ultimi tre Impassioned che secondo me questi ultimi tre due in particolare sono molto estivi a mio gusto quindi Impassioned che secondo me è bello ma in inverno l'ho messo una volta e non mi è piaciuto proprio perché è flash non so se vedete quindi questo qua secondo me in estate lo riprovo e vedrete che infatti è questo come definirlo è indefinibile come colore allora da come lo vedo io è un rosa corallo fucsia non so se riuscito a vederlo è veramente veramente caldo come colore io spero che lo vediate cioè rispetto agli altri che comunque secondo me vanno molto bene alcuni vanno molto bene in inverno rispetto ad altri tipo questi qua scuri ovviamente questo qua è molto spara flash e secondo me questo qua in estate mi piacerà molto questo qua dura tutto il santo giorno un altro che dovete togliere con un bifasico se no no un altro che non mi piace è il pismi in matte lipstick e non mi piace perché secondo me questo è un altro colore che devo riuscire a provare con un trucco abbastanza solare perché se uso toni freddi questo qua è un matte su di me non mi piace cioè ve lo metto qua ecco questo come texture tende a essere come il retro matte cioè un po' più un po' meno secco però è sempre secco ed è più secco del diva ho fatto una insomma è questo qua vedete è molto bello però secondo me questo mi starebbe meglio quando sono abbronzata perché se lo metto adesso nonostante io metto il fondotinta si è suicidato il tappo vabbè lo recupero dopo nonostante stavo dicendo nonostante io metto il fondotinta questo su di me ha un effetto veramente brutto per il momento non mi ci vedo adesso vi farò sapere se no questo va dritto dritto a qualcuno che so io e vabbè e quindi è questo qua vedete visto così sul palmo della mano è molto bello quando io me lo metto mi sembro veramente uscita da qualche film dell'orrore e non lo so non mi ci vedo vedremo ultimo ma non ultimo il Vegas Vault che questo ancora non ho provato è un Amplified perché è un bell'arancione estivo quindi per cui 9 non ci stiamo con questa stagione però lo volevo me l'ho portata avanti come dico io e vi faccio vedere qual è questo qua secondo me vedete è arancione arancione e ve lo metto vicino all'impassionate ed è questo qua è un bellissimo bellissimo arancione wow come si vedono bene i colori ok questo ovviamente è un rossetto prettamente estivo cioè non ce n'è questo non si può andare in giro adesso quindi io mi sono portata avanti non so in quanto ha durato non lo so però mi dà molto quando lo stendo mi dà l'impressione che sia molto come un Impassionate però questo dice che è un matte ma io di matte non ci vedo una cippa cazzi non so io li vedo lucidi cioè un retro retro matte è questo vedete che è totalmente matte il Diva io non lo vedo così matte rispetto agli altri è meno lucido ma è sempre lucido questo dice un matte ma io de matte ce vedo poco vedete che è lucido io o sono ignorante io il che può essere come dico sempre però insomma ecco Lipstick scusate Plismi sì che tende a essere matte è molto meno lucido rispetto agli altri è il retro matte per eccellenza è questo qua apro bene e poi io qua nelle mie le mie porta così ci ho messo perché vi faccio vedere ma non c'entrano niente col video ma fa niente della Makeup Forever i due matte che io ho che è il Rouge Artist Intense Matte 8 questo sì che è un matte cioè lo metto qua che fatica ragazzi questi qua sono sono delle pietre questi qua non si stendono sono proprio delle pietre vedete e poi c'è lo 06 che è questo anche questo guardate come si fa fatica a stenderlo pensate sulle labbra che è questo colore bellissimo ma io non so quanto riuscirò mai a metterli vabbè niente invece questi qua sono quelli di MAC cioè per farvi capire dov'è che è il Flutter 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 Fabulous avete visto con che difficoltà ho steso gli altri questo meglio ragazzi vi saluto perché la batteria la sim mi ha completamente abbandonato un bacione alla prossima spero che vi siano piaciuti ciao ciao